Ragazzi vi saluto, l'unica cosa che ti tengo a dirvi è che secondo me quest'anno sta nascendo veramente, per chi è qua da tempo lo sa, un gruppo diverso, l'ho visto anche negli ultimi due o tre giorni da fuori, così col mister, vi auguro con tutto il cuore veramente di fare una grande annata, perché non voglio fare casi circostanze, ma secondo me qualcosa sta cambiando adesso qua e secondo me assieme a questo matto vi potete togliere delle grandi soddisfazioni, lo penso realmente, se non l'avrei detto non sarei andato in macchina, vi auguro veramente di stare là sopra, non sarà facile, ma ho delle sensazioni a livello umano che negli ultimi anni qua erano mancate, vi auguro col cuore, questo è un posto che può avere qualche difetto, però poi se le cose vanno bene vi arriveranno indietro delle emozioni importanti, auguro a tutti di trovare la soluzione che è meglio preferiate, ma per chi sta qua cercando di creare qualcosa di forte, e poi le soddisfazioni di voi, ripeto, ho delle buone sensazioni, vi auguro veramente di fare una grande annata e con tutto il cuore, grazie.